Konnichiwa e ben arrivati a tutti qui nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer e ben arrivati a tutti qui nel favoloso mondo di Wonder Boy Dragon Strap allora mi sono ricordato di una sezione particolare che dovrebbe essere, come potete già vedere siamo con il nostro amico Leone dovrebbe essere questa zona particolare, che dovrei scusare insomma mia memoria un po' ballerina qui nella zona del deserto e se non erro starebbe di qua poi ok di qua a sinistra vediamo un po' e prendi questo va tie tieni va ok dammi qua va, dovrebbe essere di qua zompa zompa vai così grande Leone che era una zona che non potevamo andare all'epoca ad indagare e tieni, va su mi pare eh mi pare qua ci siamo stati con, non so se col top, ecco qua, esattamente qua mi pare che si può andare, si può accedere, vedete ci sta anche se bisogna fare fuori il granchio, sputa fuoco no 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 no, aio 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 no 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 ok così, bene così e non so se sta qua a sinistra, credo a sinistra guardando o di qua a destra ah no, di qua a destra, aspettate un attimino che caspita è di qua, di qua, di qua, si ok, l'ignoto a caos, ci hanno trasformato oddio, Eran e Gialle, porca miseria che caspita sono queste Eran e Gialle, mai viste siamo con siamo trasformato nell'uomo lucertola aspettate un attimo, va la spalla leggendaria, ok, scudo e cavaliere, quanto difende qua? 50, lucertola, eh no più 3, più 12, più 35 più 0 0 0 caos, scudo e cavaliere è quello che difende meglio armatura leggendaria, più 100 lucertola più 3 ok, proseguiamo così dobbiamo sparare allora come se non ci fosse in domani il nostro fuoco, andiamo avanti che caspita è? prenditi questo va, ti è ok, vai così grande, grande mamma mia che caspita vai, prendi questo così porcello vai e là come caspita facciamo? vabbè, ok la la nuova era incastrata mai vista la nuvola incastrata amica mia in questo gioco che in realtà poi nell'89 90 dunque, quegli anni lì vediamo un po' come caspita era mamma mia com'era in quegli anni lì in realtà non l'ho mai videogiocato per cui per me tutta la novità aio te pareva no, ma che l'ha spaccata la sua armario oddio santo con la testa oddio e prendi questo va ok prendi questo vai ok oddio 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 mi sono stato fare fuori eh sì che caspita ok bene così proseguiamo No, là ci sta una porta Come caspia vi saliva quella porta là? Allora, aspetta un attimo Ok, bene così Ma che abbiamo fatto fuori Oddio santa ro Ma che caspia cos'è? Aspettate va, utilizziamo La sciabola Dov'è eh? Sciabola magica, ho capito No, non si può nemmeno utilizzare la sciabola magica Allora, ok, bene Si è ripristinato Lo stage Allora Allora, vediamo un po' Allora Tu prendi questo qui Così non ci scocci più Mi dai pure il cuore Bene, ok Ok, zompa qui Ok, zompa qua Ok, mamma mia Bene, bene Zompa così Ultimo zompo Si, grandissimo Ok, vediamo un po' Grande Che ci ho dato? Ok, che caspita è? Trofeo guadagnato Pietra incantata Bene Benissimo Sì, iata Ottimo così Ottimo così Vediamo un po' Che caspita eh Una pietra Pietra rossa incantata Va bene Qui abbiamo ancora una chiave Una pietra Nello del fulmine Bene Non è che c'è qualche porta magica qua No Ok, adesso Per tornare indietro Che tocca fa? No, non mi dici tutto quanto Del pezzo a ritroso eh No Porca la miseria Mi pare proprio di sì Grazie per il cuore Mamma mia Aio Vai prendi questo Porca la miseria Quanta roba Ecco Occhio a ste nuvole Maledette No, 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 no Non andare di là Cavolo E basta con queste frecce Vai, cala giù Allora Allora, aspetta un attimo Che anziché La sciabola Vediamo la spada leggendaria Ok, bene Vai, prendi questo Va Ok, bene così Vai così Vai così Vai così Vai di cuore Vai di cuore Grandissima Grandissima lucertola Vieni qua Vieni qua Porcello Non mi dai niente Maledetto Ok, bene così E prendi questa rana Su Ok, bene così Vai di cuore Ottimo, ottimo Ok, bene, bene Aio Prendi questo Prendi questo Grazie per il cuore Allora, vediamo un po' A sinistra che c'è Va Vai così Di soldi Aio Bene così Prendi questo Va Ti è Ah, si può uscire pure di là Ok Vieni qua Aio Così Bene così Andiamo di qua Che succede? Va Continua Continuiamo Va Prendi questo Pesce Su Vai così Vai così Mamma mia Eh, c'è una fine Eh, c'è una fine Ok Si può passare Qualche passaggio Segreto Qua No Vediamo un po' Che caspio ci sta qui Vai di tesoro Grandissimo Vai così Vabbè Monete Più che busti I soldi Va bene uguale Ok Accettiamo Ok Vai così Vai di pozione Ottimo Così Bene Bene Ok quindi Dobbiamo farci tutto il pezzo All'indietro Dobbiamo tornare indietro Ovviamente Vai così Allora Qui non era Mi pare fossero tre Le uscite Aio Vai così Che fai Tu Ma si Tieni va E dammi qualcosa Di più pesante Ho bisogno di soldi Io Che cavolo Vai Prendi questo Busi soldi Niente Solo monete Vabbè Ok Questo Tra un po' Dovrebbe esserci La seconda uscita Mi pare Sì Eccola qua Vai di cuore Bene E ok Mamma mia Guardate la faccia Poi Buffa Che fanno Quando le ammazzate Vai così Ottimo Non mi dite Perché Il fuoco Funziona Si ottacco Perché E' veramente Una cosa Incredibile Era qua Mi ricordo Sì Era lì Ok Ok Bene Quindi Torniamo pure Indietro E Prendi questo Va Vai di boomerang Ottimo Vai Prendi questo Così Bene Bene Vai Zompa Vai Vai così Vai così Ottimo Non zompare Sta Bono Serpentello Rosso Soldi Lisciati No Presi Presi Anche Vabbè Sono pochi Ma vanno Bene Uguale Ok Bene Ritorniamo al nostro Bel villaggio Ma si dai Possiamo pure cadere Bene Ok Va bene Ok Bene così Allora Abbiamo Siamo riusciti a prendere Una pietra rossa Una pietra Insomma Una sorta di Pietra rossa Insomma Pietra particolare Bene così Non so Quante ce ne saranno I pietre Noi Per il momento Ne abbiamo Solamente una Va bene Ok Bene così Questo episodio Di Wonderboy Dallo strap Termina qui Mi raccomando Se vi è piaciuto C'è pure un bel like Commentate Condividete Con la vostra amici Dal vostro Giappogamer È tutto Sayonara E ai prossimi episodi